Buongiorno buongiorno coccodrilli eccoci qua sta pieno terza posizione ragazzi siamo terzi ma io voglio la prima posizione perché se entro domenica arriviamo primi colorerò i capelli del nonno sì 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 fate swipe acquistate il brano su iTunes per farlo schizzare in classifica ragazzi solo insieme poi possiamo fare questo possiamo arrivare primi e possiamo vedere una testa una testa d'oro un capello dorato fate swipe ragazzi su iTunes vi aspetto e oggi sbombardamo volevo ringraziarvi perché cioè scalare la classifica così è pazzesco ragazzi solo grazie a voi vi voglio bene sì la canzone è piaciuta moltissimo sono super felice però voi siete la mia forza io lo dico sempre ve lo sempre e niente iniziamo la giornata con i ringraziamenti di solito finisco la giornata con i ringraziamenti stamattina voglio ringraziarvi abbracciarvi tutti 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 continuate a ascoltare la canzone mandatemi le storie a voglio io un balletto ce l'ho già in testa e forse lo pubblicherò o oggi o domani intanto mandatemi delle storie dove fate il balletto di sta pieno perché se lo scegliete voi sono più contento se siete voi i protagonisti della di questa cosa quindi se avete un balletto una cosa carina fate una storia con la canzone sta pieno e io la riposto e così vediamo se c'è un balletto ancora più bello il gioco è vero quello è vero è un gioco lascialo fa non è vero quanto è grosso chiapelo 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 no perchè bellino bellino oh nooo che stai fa che stai fa che stai fa faglielo così a bucchettini mi teme ti vieni a farlo stupido fagli i bucchettini fagli i bucchettini di qui così che mi tagli ma buongiorno 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 a sto cazzo nooo perchè o no perchè è le unici passate buongiorno leva questo a scacchiere lei che ti infilci dalla manza no scusa eh non fa un culo nooo eh ma tu fette ma tagli così di netto così le va il buttetto che mi tagli dio oh ah e levate scemo il buttetto al presunto ti può piacere il colore salati ti può piacere oh la di coglione porca madre no 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 lo piggiamo eh fa uno io ce l'ho da fare sempre ma questi scocci 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 stronzo scocci che io non li ho comprati quelli che li hai fatti tu sì me li ho regalati che li ho comprati ma li hai fatti tu io io sono uno stronzo che è ah quelli qua ne le hai rotte sono soldi buttati via ma è meno le ho detto io porca madre beh no oggi no eh e lo scopo e lo scopo che storia è la e quello che vuoi fare dice qualcosa Cosa? Se si spostano che entriamo noi. Eh, gli sono addietro e noi all'insù. Ma noi c'è i coccodrilli che spingono. Certo, quello come se lì, quelli da finire. Quindi, di un po'. Eh. Andate. Andate. Affanculo. No, andate su iTunes, ragazzi. Ah. E pompiamo sta pieno, eh. Eh, certo, comprate sta pieno. La maglietta, eh. Fa. Eh. Fa. Eh, sta qua. Fa. 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 Maria. Eh. Maria. Eh. Maria. Maria. è vero che il papa ha detto una bestemmia va via allora questo papa va via che stai fa o no? che stai fa? che stai fa? oh comincia eh te la forchetta andrà la trippa no sulla trippa no allora non vi cogliere sembrava una giornata molto soleggiata e invece e invece e invece sta nevicando incredibile si prepara attenzione eccolo qua riapre tutto lo ski lift è incredibile sta nevicando guardate com'è nevicato guardate com'è attaccato guardate questo cazzo ha nevicato incredibile ti sei canazzei corvara selva o no guarda i capelli miei a me il colore mi piace a te il tuo il colore ti piace? a me sì eh? io il cambierei no cambiamo il colore no non credo cambiamo il colore no no i fio bianchi armandolo bianchi cambiamo il colore no solo voi solo voi facendo swipe potete cambiare il colore dei capelli di nonno faustino quindi fate swipe e proviamoci proviamo a sognare il primo posto se cappotta questo si mettono sul culo che si fa? si mettono sul culo le pavre vanno sul culo davvero? eh paradiso è dietro casa no siamo secondi 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 fa così con le maneskin fa così abbiamo superato i maneskin hai capito? sì? maneskin fai così ebbene un po' così come lo devo fare? così come? come? no adesso no stiamo a puntare San Giovanni occhio San Giovanni che è un piacere ti superiamo eh la cristoteca è pronta per te San Giovanni eh o no? è bello eh non puce sei pronto? sei pronto? ci arriviamo primi sei pronto? bravo sei bravo adesso vorrei restare vivo no ragazzi ancora non so primo fate swipe scaricate il brand itunes e questo diventerà realtà non è ricollato con Vlasov sono rimasti trecata e proschi venti la terzota fammi fare il pennello a me ma terzo che mi hai detto? fammi vedere lì ma il pennello e adesso passano al GPM anche gli uomini con la maglia rosa per l'altro niente pennello scappo eh no no le minacce no le minacce no niente pennello posso confirmarti che la discesa è bagnata e ci sono diversi tornanti nella prima parte prima e che stai a pregare? per te eh per te sì e per la canzone anche che arrivassi prima e la canzone io prego per te dopo la canzone quindi funziona se arriva prima è merito tuo anche stanotte stanotte vi do la buonanotte dalla cristoteca con la sigianna secondo posto fantastico ragazzi cioè non so come ringraziarvi perché veramente è assurdo una canzone per divertirvi una canzone per divertirci insieme quest'estate che comunque classificata su iTunes al secondo posto davanti a dei mostri sacri cantanti quali che io non sono un cantante non sono nessuno sono solo una persona che vuole far divertire o almeno prova a far divertire la gente però ormai sono al secondo sarei ipocrita a dirvi che non mi interessa o che non vorrei arrivare primo tutti tutti vorremmo qualsiasi persona specialmente con un progetto fatto e partito prima la persona che ami di più nel mio caso mio nonno per me fare una canzone con il mio nonno ragazzi è assurdo vedere al secondo posto è assurdo però vi chiedo un ultimo ultimo sforzo ragazzi facendo così gli ultimi che ancora non hanno acquistato la canzone si parla di 99 centesimi alla fine è una cifra simbolica ma io non è tanto per il costo della canzone perché proprio ormai sono lì sono lì e io sono un sognatore ci credo voglio sognare e voglio svegliarmi vorrei svegliarmi perché voglio non esiste vorrei svegliarmi domani al primo quindi ragazzi coccodrilli datemi una mano ultimissima mano fate swipe e acquistate su iTunes sta pieno grazie non ho niente da aggiungere vi voglio bene ciao